La crisi economica comincia a mostrare i primi effetti anche sulla salute degli italiani e dei toscani in particolare, a cominciare dagli stili di vita e dai comportamenti individuali. Si consuma meno carne ma anche meno frutta, verdura, pesce e latte. Tra i meno scolarizzati aumentano i sedentari e tra i disoccupati aumentano le abbuffate di alcol. Cala ovunque il ricorso agli esami diagnostici. E quanto emerge dal rapporto gli effetti della crisi economica sulla salute della popolazione toscana, come cambia il ricorso ai servizi realizzato dall'Agenzia regionale di sanità della Toscana e presentato in un convegno che si è svolto al convitto della calza di Firenze. Dal 2007 al 2013 il reddito delle famiglie toscane si è ridotto del 14% e sono peggiorati anche tutti gli indicatori occupazionali, gravi le ripercussioni soprattutto sulla fascia dei giovani. Abbiamo perso circa 38 mila occupati all'inizio della crisi oggi ma questo risultato è un saldo fra opposti andamenti, sono più di circa 55 mila gli occupati che abbiamo perso fra i giovani e circa invece 18 mila, 17 mila gli occupati in più fra gli adulti. Proprio a testimonianza di questo andamento polarizzato, gli effetti della crisi del mercato del lavoro per diverse classi, per le classi d'età. Naturalmente poi nel complesso come dire la crisi ha manifestato gli effetti su tutta la popolazione, il reddito ha diminuito in termini pro capiti circa 14 punti, sono circa 1900 euro in testa in meno. Secondo quanto emerso dal convegno gli effetti della crisi al momento sono più evidenti per gli stili di vita, non sempre con conseguenze negative. Le cose vanno tendenzialmente peggio per le fasce sociali più deboli. Cala l'acquisto di generi alimentari a cominciare dalla carne, fattore positivo per la salute, ma cala anche il consumo di pesce, latte e frutta, alimenti protettivi per molte malattie della vecchiaia. Se è vero che i consumi di tabacco e alcol sono ancora sotto controllo nella popolazione generale, è anche vero che nelle fasce più deboli si sta accentuando il binge drinking, cioè il consumo smodato di alcolici, spesso di bassa qualità e costo. La crisi poi rischia di compromettere la sostenibilità dei sistemi sanitari a danno proprio delle fasce sociali meno avvantaggiate. Sul sociale ci si aspetta effetti davvero preoccupanti e quindi anche le ricadute sulla salute delle popolazioni vulnerabili si incominciano a vedere, non sono favorevoli. Sulla sanità le ricadute sono prevalentemente sull'aumento della compartecipazione alla spesa per i ticket, per le visite specialistiche, per i farmaci. Per cui siamo solo all'inizio di questa osservazione, l'attenzione, la preoccupazione deve essere alta e le politiche del lavoro, le politiche del reddito di welfare, le politiche della sanità devono incorporare l'effetto sulla salute come uno degli effetti marginali da internalizzare in prima battuta per poter calibrare le politiche in modo da far meno male, soprattutto alla parte dei gruppi più vulnerabili. Se dunque quelli che stiamo osservando sono solo gli effetti precoci della crisi sulla salute dei toscani è importante monitorare la situazione nei prossimi mesi e anni per fornire dati sui bisogni concreti della popolazione a chi deve organizzare i servizi sanitari e le politiche di welfare.